Una delle cose peculiari che si ricordano di Italo Calvino è che è nato a Cuba. Genitori caraibici dunque campioni di salsa? No, il padre era di Sanremo, poi trasferitosi in Messico e infine a Cuba. La madre era sarda di Sassari, che finita la prima guerra mondiale accettò di seguire l'agronomo Ligure a Lavana per gestire la stazione agronomica sperimentale per la produzione di canna da zucchero. E il buon Italo nacque qui, nel 1923, anche se di Cuba non ricorderà pressoché nulla, visto che la famiglia tornerà in Italia quando lui di anni ne aveva solamente due. La sua figura è legata soprattutto alla trilogia I nostri antenati, tre libri che in modo allegorico vogliono dare insegnamenti morali e mettere in mostra vizi e virtù del genere umano. Sono il Visconte di Mezzato, il Barone Rampante e il Cavaliere Inesistente. Noi andiamo in ordine e parliamo del Visconte spaccato in due, scritto nel 1952, che fa anche rima. Lui si chiama Medardo di Terralba, in procinto di partecipare alla guerra contro i turchi in Bohemia. Il destino vuole però che il poveraccio venga colpito da una palla di cannone che lo spacca in due e di lui viene ritrovata e salvata dal dottor Trelloni, medico del campo, solo la parte destra, mentre la sinistra si crede andata in pezzi. La parte destra però è quella cattiva, tanto che viene chiamato il Gramo. Il Visconte, ritornato a Terralba, ne farà di ogni. Cerca di eliminare il nipote avvelenandolo con dei funghi. Vessa i poveri ugonotti, commercianti che vengono in realtà presentati in modo abbastanza ridicolo da Calvino, simbolo di bigottismo, visto che si ritrovano a cantare salmi senza sapere nemmeno il significato delle parole. Oppure il Visconte arriva a mettere a morte i compaesani, commissionando la realizzazione di forche sempre più temibili al fabbro Pietro Chiodo. Però, sì, è malvagio, ma un cuore ce l'ha anche lui, quantomeno metà. E così si innamora della contadina Pamela, che però gli sbatte in faccia il due di picche. E lui, essendo cattivo, si vendica sulla famiglia della ragazza. Che cosa accade? Un giorno il nipote di Medardo incontrerà lo zio nel paese di Prato Fungo. Oiboc ci fa qui lo zio e perché è diventato così gentile, tanto da arrivare a regalargli dei pesci. La verità viene a galla, complice un ragno che morde Medardo sulla mano sinistra. Il nipote si rende conto che lo zio, conosciuto fino adesso, aveva solamente la mano da destra e quindi quello che aveva di fronte doveva essere l'altra metà dello zio. Quella buona, salvata da alcuni eremiti esperti di erbe mediche. La parte sinistra è buona sul serio e cerca di portare pace e amore nella comunità, però spesso le sue buone intenzioni danno vita a situazioni imbarazzanti e diventa fin troppo esasperante. Quindi abbiamo da una parte il cattivo che vessa la popolazione, dall'altro il buono che fa casino. Insomma, a terra alba la gente non capisce più niente e arriva a odiare entrambi. Se poi aggiungiamo che anche la parte sinistra si innamora di Pamela, ecco che il caos è assicurato. In comune c'è comunque la sfortuna in amore, visto che anche il Medardo buono viene frenzonato dalla contadina. I genitori, terrorizzati dalle minacce del gramo, spingono la figlia alle nozze con lui, ma lei darà appuntamento all'altare a entrambe le metà. La sorte favorirà il buone, il primo ad arrivare alla chiesa il giorno concordato, ma cerimonia non ancora conclusa, ecco che arriva anche la parte cattiva, dando vita a un sanguinario duello a colpi di spada. E nel finale riecco il dottor Trelawney che riunisce le due metà, ma il conge sanguinanti, in modo da affondere la parte buona e la parte cattiva e dare vita finalmente a un essere umano normale, con i suoi pregi e i suoi difetti, e che infine riuscirà finalmente a sposare sta benedetta Pamela, che, aggiungiamo noi, deve essere stata l'unica donna del pianeta vista l'ossessione scatenata. Ma tutto qui, fine.